Il candidato sindaco del centro-destra alle ultime elezioni comunali di Sernia, Gabriele Meloji critica l'immobilismo della giunta Castrataro e parla del ruolo delle opposizioni. Da venerdì primo aprile graduale allentamento delle misure anticontagio, l'importanza per i medici della campagna vaccinale della quarta dose per persone a rischio. Questo pomeriggio alle 18 il campo basso di Mirko Cudini sarà di scena a Picerno per il recupero della trentesima giornata nel campionato di calcio di Serie C Girone C. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il telegiornale di TLT. In apertura parliamo di politica, la macroregione adriatica tra Molise e Abruzzo e Marche potrebbe essere l'idea migliore per il futuro rispetto alla proposta politica attuale del molisagno di cui ha parlato il presidente Donato, Toma, nelle scorse ore. Ma andiamo a vedere il contributo. Allargare i confini del Molise alla provincia di Benevento porterebbe la popolazione totale da poco meno di 300.000 abitanti ad oltre mezzo milione, in poche parole anche più peso politico nel contesto nazionale. L'argomento molisagno è per ora un'idea del governatore regionale Donato, Toma, da una parte del primo cittadino del capoluogo Sannita, Clemente Mastella, dall'altra. Non sembrerebbero della stessa opinione Roberto Gravina, sindaco del capoluogo molisano, e il suo collega di Isernia, Piero Castrataro. Calare dall'alto simili proposte senza una base di consensi e di ascolto non è il massimo. L'iter legislativo per un'annessione avrebbe poi tempi molto lunghi e l'operazione appare agli occhi dei più uno spot elettorale in vista di più importanti appuntamenti politici. La soluzione individuata da Toma e Mastella non è quella idonea neanche per il benafrano Stefano Buono di partecipazione democratica. L'annessione parziale di una fetta di territorio non contiene al suo interno la possibilità reale di rilancio socio-economico di un'area. La macro-regione adriatica tra Abruzzo-Molise e Marche può essere invece la soluzione più adatta, lo smantellamento della sanità pubblica, il pesante debito sanitario, la mancanza di grandi arterie viarie, ferroviarie di occupazione, il calo demografico della popolazione locale, il processo di integrazione europea, l'importanza di collegarsi con il resto del mondo, l'esigenza dei nodi logistici e la cooperazione rafforzata. Sono solo alcuni dei tratti che impongono una riforma in chiave macro-regionale. Un lavoro, conclude Stefano Buono, che deve affiancarsi con una riflessione e una legittimazione che passi mediante un referendum popolare. E noi siamo sempre sui temi della politica. Dalla coalizione di centrodestra, che fa parte della maggioranza e regione, giungono critiche e distingo all'operato del presidente Donato Toma e della sua giunta. Andiamo a vedere. Questa volta tocca a Massimiliano Scarabbeo, esponente di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, muovere critiche al presidente Donato Toma per il suo operato e per l'indirizzo dato alla sua politica. La cosa insolita è che giunge nell'ambito della maggioranza di una gestione complessiva che evidentemente è stata ed è mal sopportata non solo dagli avversari, ma anche dagli alleati che dicono la loro nella prospettiva delle imminenti prossime elezioni regionali in Molise. Con profonda obiettività, in tempi anche non sospetti, ho sempre sollevato le mie perplessità, ma soprattutto ritengo la non adeguatezza del presidente Toma alla res pubblica, ma soprattutto all'attività politica e amministrativa. Oggi c'è un tema forte, che è quello della responsabilità, oggi c'è un tema forte, che è quello della capacità del politico di essere sensibile rispetto alle stanze che provengono dai territori, ma soprattutto la capacità di guardare oltre il naso. Noi come partito vogliamo essere l'elemento propulsore di forza, di un concetto anche nuovo su basi solide e consolidate della politica. Insieme ad altri partiti della coalizione stiamo cercando di mettere su un organico, di mettere su un'unità di intenti che sia differente rispetto ai periodi passati. L'esperienza passata ci insegna che le cose non devono essere fatte all'ultimo momento, devono essere condivise e tracciate insieme. Riteniamo che la responsabilità di ognuno di noi, a prescindere poi dal fatto se è candidato o meno, è quello di mettere su una classe dirigente che sia adeguata e preparata all'evoluzione. Il candidato a sindaco del centrodestra alle ultime elezioni comunali di Isernia, Gabriele Melogli, critica invece l'immobilismo del sindaco Piero Castrataro e della sua giunta e parla anche del ruolo delle opposizioni. Ma ascoltiamolo. Gabriele Melogli è stato il candidato sindaco della coalizione di centrodestra alle ultime elezioni comunali a Isernia. È uscito sconfitto ed oggi si mostra assai critico sulla gestione amministrativa del vincitore, il sindaco attuale Piero Castrataro e gli uomini della sua giunta. Una gestione considerata non produttiva, immobile nei progetti, non rispettosa delle scelte programmatiche e delle stesse promesse elettorali e scorretta nelle poche scelte attivate. A me non sembra che le promesse che sono state fatte durante la campagna elettorale siano state rispettate, diciamo, perché anzi vedo una stagione, una paralisi totale in quella che è non solo l'attività dell'amministrazione comunale, ma vedo soprattutto una situazione difficile della città di Isernia, il paese di Isernia, perché era una volta una cittadina che aveva delle prospettive per il futuro. Oggi a me sembra che è tornata a essere un paese. Io non sono nato per fare l'opposizione, sono una persona che voleva operare, mi sono proposto per prendermi cura della mia città, dei miei concittadini, ma i cittadini hanno scelto diversamente, dobbiamo rispettare la volontà. Quindi io mi dovrei adesso mettere in consiglio comunale a fare l'opposizione a quelli che la maggioranza dei cittadini di Isernia hanno scelto per essere governati. A me sembra una cosa che non la sento. Ma poi, se chi è a conoscenza del meccanismo delle votazioni e soprattutto del funzionamento dell'amministrazione comunale, sai che l'opposizione non conta nulla. Cioè praticamente, dato il numero dell'opposizione, sono dei numeri esigui che non possono incidere più di tanto su quello che è l'amministrazione cittadina. Per cui andare a fare una sterile opposizione soltanto per dire no a quello che volete fare voi, a me sembra assurdo. Per me è sufficiente quello che stanno facendo gli amministratori attuali. Io non credo che il giudizio dei miei concittadini, attualmente già sono passati solo 5-6 mesi, non credo che sia ancora un giudizio così favorevole, così come è stato espresso nelle urne. Staremo a vedere che succederà prossimamente. Io personalmente ritengo che le prime delibere che sono state fatte dall'amministrazione comunale sono delle delibere completamente sbagliate. In effetti l'avvocato rappresenta anche l'inutilità di poter svolgere un qualsiasi ruolo attivo da parte delle opposizioni che non determinano a suo dire alcun passo nella gestione della città, mostrando l'opinione di un'immensa distanza dalle regole della democrazia che prevedono la presenza delle minoranze come organo di controllo e di critica delle scelte delle maggioranze negli organismi amministrativi cittadini. Spento l'incendio che si è verificato nelle scorse ore, quando tra le abitazioni di Borgata Leone e nella zona collinare di Pozzilli si sono dirampate le fiamme, l'intervento mirato dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme alimentate dal vento che si sono poi propagate rapidamente tra la vegetazione e le sterpaglie generando preoccupazione soprattutto tra i residenti. Il Comitato degli Operai Forestali, alla luce dei frequenti roghi che nell'ultimo periodo hanno interessato il territorio regionale, propongono di istituire squadre di pronto intervento operative in caso di incendio. Gli effetti dei cambiamenti climatici impongono di non abbassare la guardia nemmeno nei mesi più freddi, motivo per cui i forestali potrebbero essere un valido supporto per i vigili del fuoco e la protezione civile. L'idea è quella di formare due squadre, una per provincia composte da 4 o 5 unità, inoltre questo porterebbe ad un utilizzo per operazioni di prevenzione al fine di evitare eventi incendiali anche di grandissima portata. Tra pochi giorni verranno allentate le restrizioni anticontagio, al momento però i positivi aumentano e le vaccinazioni invece sono in calo. L'importanza dunque della quarta dose per determinate categorie di persone a rischio. Andiamo all'intervista. Dottor Giulio Giordano, responsabile scientifico dell'AIL, adesso c'è in corso anche la quarta dose per particolari persone che hanno patologie oppure stanno affrontando delle cure. Quanto è importante anche questa quarta dose per loro? La quarta dose, questo lo sappiamo ormai dagli studi in oncoematologia che sono maturi per i pazienti oncoematologici, in quanto come AIL ci occupiamo soprattutto di quelli, è estremamente importante perché abbatte il rischio di reinfezione o di prima infezione a una percentuale che oscilla dall'1 al 5%. Già la vaccinazione era di un'importanza estrema, soprattutto per i pazienti oncoematologici e fragili perché con una dose dei nostri pazienti che purtroppo hanno tumori del sangue e quindi per definizione sono degli immunodepressi, dava una copertura del 10-30%, la seconda del 50%, la terza del 75-90%. Quindi con la quarta dose mettiamo in sicurezza questo risultato impediamo la nuova infezione o la reinfezione. Parlando sempre di quarte dosi, invece per le altre persone quando si parla adesso di un richiamo che potrebbe anche esserci soprattutto ad ottobre, voi medici, specialisti, come la vedete? Sicuramente sarà utile, il problema è un altro, che il virus cambia, già l'omicron stesso è variato e c'è un omicron 2, quindi sicuramente un'ulteriore vaccinazione come si fa del resto per l'influenza sarà necessaria, però come avete sentito è in corso lo sviluppo di nuovi vaccini proprio perché siano efficaci verso i nuovi sierotipi virali che si sono sviluppati e soprattutto adesso avremo il supporto dei monoclonali, abbiamo già il supporto dei monoclonali e degli antivirali che nelle fasi precoci di malattie e che anche nei fragili evitano le infezioni gravi e le rendono soprattutto se in corso paucisintomatiche. Domani alle 15 presso il Dipartimento di Economia dell'Università del Molise a Campobasso avrà luogo l'incontro dal tema le politiche per l'emergenza Covid, ricerche e spunti di riflessione. L'incontro promosso dall'Ateneo e dall'Ordine molisano degli assistenti sociali si terrà anche per celebrare la giornata mondiale del servizio sociale il cui tema per il 2022 è costruire un nuovo mondo ecosociale, non lasciare indietro nessuno lo scopo è promuovere una visione, un piano d'azione per creare nuovi valori politiche e pratiche globali che sviluppino così la fiducia. Lo stato di agitazione dei lavoratori del pubblico impiego e della sanità rispetto ai rinnovi contrattuali, alla valorizzazione dei ruoli, alla professionalità e all'adeguamento del personale. Mandiamo al contributo. Una lotta sindacale molto concreta, quella che ha portato e sta portando gli impiegati del pubblico impiego e del settore sanitario allo stato di agitazione e ai presidi delle prefetture, tutto per spingere ai rinnovi contrattuali e alle nuove assunzioni, passando per la valorizzazione delle professionalità e dei ruoli acquisiti nel tempo. Noi abbiamo un contratto nazionale che prevede degli aumenti commisurati al costo della vita di dieci anni fa. Ovviamente la crisi energetica di questi giorni poi ce lo dimostra ancora di più. Il potere d'acquisto degli stipendi parametrati a dieci anni fa non regge più il confronto con il costo della vita. Quindi noi chiediamo degli aumenti. Ma non è soltanto una questione economica, ma è anche una questione legata alla professionalità del personale che opera nelle pubbliche amministrazioni, perché le tecnologie e le figure professionali sono ancora parametrate a circa 12-13 anni fa. In 12-13 anni la tecnologia, l'informatica ha fatto dei passi da giganti e noi chiediamo che il nostro personale sia professionalizzato per dare le adeguate risposte ai cittadini e agli utenti che si presentano negli uffici della pubblica amministrazione. Ultimo elemento, ma non ovviamente per ordine di importanza, in tutti questi anni fra la legge Fornero, fra Quotacento e tanti altri istituti che hanno permesso al personale di andare in pensione, noi abbiamo avuto le nostre pubbliche amministrazioni e le abbiamo viste svuotarsi lentamente di personale. Se aggiungiamo che la media di età di questo personale è già di per sé molto alta, nei prossimi mesi noi assisteremo ad altri pensionamenti, quindi chiediamo il potenziamento del personale e delle pubbliche amministrazioni proprio perché siamo in fortissima carenza di organico. Aggiungo che questo elemento della richiesta economica e della richiesta di assunzioni è legato alla ampia dimostrazione di tenuta sociale e politica che la pubblica amministrazione ha dato in questo paese durante la pandemia. Non parlo soltanto della sanità, non parlo di quelli che venivano chiamati eroi e che invece ora si vedono negati il diritto al rinnovo del contratto, ma parlo di tutte le istituzioni che hanno continuato a garantire dei servizi che hanno, ripeto e sottolineo, garantito la tenuta sociale, politica ed istituzionale di questo paese. La Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL Molise avvia una vertenza legale per garantire a tutti i precari della scuola il beneficio della carta docente. Si tratta del bonus annuale di 500 euro che serve per la formazione e permette di acquistare libri, ebook e audiolibri, rivirste, corsi, programmi, computer e strumenti elettronici, iscrizioni a corsi di laurea e post laurea, master universitari, esami di lingua straniera e biglietti per teatri e cinema. Parliamo adesso degli impianti energetici e della transizione ecologica. In Molise manca ancora l'individuazione delle aree non idonee ed un piano paesaggistico valido. Andiamo a vedere. Aumentare la quota di energia verde e ricorrere alle rinnovabili per il benessere del territorio. Il cambiamento climatico e l'aumento dei costi chiedono adesso un cambio di passo e il Molise potrebbe essere pronto a modificare le sue abitudini. Complice il difficile approvvigionamento di gas, ma anche i nuovi obiettivi che l'intera Unione Europea si è prefissata. Prima di procedere però con i nuovi impianti bisogna porre dei paletti a tutela del territorio, nonché dettare delle linee di indirizzo chiare anche per chi legittimamente vuole investire in impianti ad energia pulita o puntare sulle comunità energetiche. Questo lo chiede anche il Governo nazionale con il decreto ministeriale del 2010. Infatti le regioni sono state chiamate ad individuare le aree non idonee all'installazione degli impianti. Ma ciò può essere fatto solo a valle di una vera ricognizione delle disposizioni a tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle tradizioni agroalimentari, del patrimonio storico e culturale. Bisogna in sostanza superare la semplice individuazione di zone di influenza visiva a cui spesso si limitano le attuali pratiche di valutazione ambientale. Questo lo chiedono a gran voce anche le opposizioni in Consiglio regionale chiedendo all'Aggiunta Toma un vero e proprio progetto di paesaggio anche in transizione energetica. È per questo che il Movimento 5 Stelle in queste ore ha portato ancora una volta in aula le richieste di accelerare l'iter verso l'agoniata produzione di un piano paesaggistico. La transizione ecologica è un cambiamento già intrapreso e in Molise si può scegliere se giocare un ruolo da protagonista o se rinunciare alla programmazione, lasciando così che siano gli altri a decidere per noi. Queste sono state in ultimo le considerazioni di Patrizia Manzo. Lavoratori da impiegare nella filiera turistica, Confu Commercio Molise lancia l'iniziativa della Borsa Lavoro Turismo. Vediamo di che si tratta. Con l'arrivo dell'estate riparte la caccia al personale da impiegare nelle strutture ricettive, nei ristoranti e nei bar molisani, settori che con la pandemia hanno sofferto particolarmente e che ora sono alla ricerca di personale incontrando non poche difficoltà. Mancano infatti camerieri, aiuto cuoco, addetti alle pulizie delle camere. La difficoltà di reclutamento delle risorse umane è una vera e propria emergenza a cui la Conf Commercio Molise ha cercato di offrire una risposta efficace mediante un'iniziativa di Borsa Lavoro Turismo finalizzata alla ricerca e selezione di personale. Rilevato il fabbisogno lavorativo e definiti profili professionali maggiormente ricercati, ha avviato il reclutamento attraverso delle candidature aperte fino al prossimo 17 aprile. Successivamente gli operatori del settore potranno incontrare e scegliere candidati. Per partecipare è sufficiente inquadrare il QR code della locandina disponibile sul sito www.confcommerciomolise.it e su tutte le pagine social della Confederazione. È sempre più urgente e indispensabile un osservatorio regionale che rilevi i fabbisogni formativi della Regione. Ci sono esempi altrove, vedi il Trentino, ha affermato la direttrice Irene Tartaglia, dove questo servizio è strutturato e gestito dalla Regione con i centri per l'impiego e le associazioni di categoria. Il nostro auspicio è che la Regione possa presto dotarsi di questi strumenti. Intanto noi abbiamo lanciato l'iniziativa e fatto da apripista. Saremo ben lieti di essere emulati dalle istituzioni. Ad aprile si apre il mese dedicato al patto verde per il Molise con una serie di incontri destinati a cittadini, imprese, associazioni e portatori di idee. Venerdì 11 la presentazione del progetto a Campobasso in via Ferrari numero 63. Nate da un'idea del Partito Democratico, le attività hanno l'obiettivo di costruire il futuro partendo dall'ascolto e dalla partecipazione. Il 4 di aprile invece alla sala Belvedere di Montagano, dalle 16.30 alle 19, si svolgerà la prima gore intitolata da rifiuto a risorsa per una nuova economia circolare. Al fegato ci devi pensare. Da sabato 2 aprile avvia la nuova campagna di screening contro l'infezione da virus epatite C. L'ASREM punta così alla prevenzione. Ma vediamo come fare. L'epatite C è una delle principali cause di malattie al fegato. Un esame gratuito può però salvare la vita delle persone. Per questo motivo l'ASREM ha lanciato la campagna al fegato ci devi pensare. Un'iniziativa volta a sensibilizzare ancora una volta sul tema della prevenzione e delle visite. Da sabato 2 aprile per tutti i sabati fino al 31 dicembre 2022 andrà avanti la campagna di screening contro l'infezione da virus epatite C. L'iniziativa è rivolta ai nati tra il 1969 e il 1989 che in maniera gratuita e senza impegnativa del medico curante potranno sottoporsi all'esame dalle 9 alle 12 prenotando i numeri presenti sul sito dell'azienda sanitaria regionale. I prelievi verranno effettuati al poliambulatorio di Campobasso, Termoli e Esernia. La prevenzione sanitaria al centro degli obiettivi ha spiegato il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Prevenire e consentire di salvare delle vite, di curare meglio in maniera più efficace e consentire di ridurre i costi di patologie ancora più gravi. Con lo screening investiamo, ha detto ancora una volta il direttore generale, su un futuro migliore e più in salute per tutti, anche perché tale patologia è difficile da individuare a causa dell'assenza di sintomi evidenti. Andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. 77 è il nuovo canale di TLT Molise, dal 4 aprile in provincia di Sernia e dal 7 aprile in provincia di Campobasso. Cielo coperto oggi su un gran parte della regione, dalla sera nubi in ulteriore aumento. Le temperature sono comprese fra la minima di 7 gradi a Campobasso e la massima di 15 gradi a Termoli, domani piogge e fenomeni temporaleschi sparsi, il mare Adriatico si presenterà molto mosso, venti variabili. Questo pomeriggio alle 18 il Campobasso di Mirko Cudini sarà di scena a Picerno per il recupero della trentesima giornata nel campionato di calcio di Serie C, Girone C. Il match era stato rinviato a causa di un debole ma persistente nevicata che si era abbattuta sul piccolo centro della provincia di Potenza lo scorso 5 di marzo. Un'opportunità per il rosso-blu Molisani per cercare di consolidare la posizione in classifica e centrare una salvezza diretta. Il Campobasso si trova ora a 40 punti in classifica ma con due partite in meno mentre il Picerno è distante solo tre lunghezze a quota 43 organico al completo per i lupi che dopo lo scivolone di Foggia hanno la necessità adesso di rimettersi in carreggiata e non perdere concentrazione in vista della fine del campionato previsto per il 24 di aprile. Parliamo adesso del derby abruzzese nella venticinquesima giornata del campionato interregionale Girone F ad affrontarsi il Castelnuovo-Vomano e Chieti al comunale di Castelnuovo finisce 3 a 1 per i padroni di casa che si avvicinano così alla salvezza diretta. Andiamo a vedere. Derby vibrante al comunale di Castelnuovo tra due squadre dagli umori opposti. I neroverdi partono forte e dopo appena due minuti vanno vicini al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la conclusione di Di Mino viene respinta dalla difesa. Quattro minuti dopo ci prova anche Ventola da fuori. Paranatale. Si rezza sullo 0-0 per caso perché entrambe le squadre spingono dimostrando di volersi prendere l'intera posta in palio e infatti il risultato si sblocca. All'undicesimo Sparvoli fa le prove generali con una grande incursione della sinistra. I neroverdi si salvano ma quattro minuti dopo arriva il gol. Ancora con Sparvoli, ancora della sinistra, con il suo traversone in mezzo diviato in porta da un difensore teatino. Sbloccato il risultato la partita cambia e il Castelnuovo domina. Al venticinquesimo Foglia ha un'ottima occasione ma Cincischia perde l'attimo. Poco dopo ci prova anche Colì e la fotografia delle difficoltà del Chieti e il salvataggio di Luasni in versione difensore per sventare un campanile. Emili è un'ottima occasione per il raddoppio, salvata dal Chieti sulla linea al trentanovesimo. Ma anche in questo caso è il preludio a ciò che accadrà pochi secondi dopo. Stavolta però sono gravissime le responsabilità del portiere teatino Fusco, che con uno scellerato passaggio corto spalanca a Lorenzo Emili le porte di un 2-0 comunque meritato per quello che stava producendo il Castelnuovo. Al rientro in campo dell'intervallo è un altro Chieti. I ragazzi di Lucarelli accorciano le distanze dopo sei minuti con il solito Luca Fabrizzi, al dodicesimo centro stagionale sui 25 totali della sua squadra. Ed è ancora Fabrizzi a sfiorare il 2-2 pochi minuti dopo, con un tiro dalla distanza vicinissimo al bersaglio. Il chiedi spinge, ma di occasioni concrete ne crea poche. E anzi, è il Castelnuovo a sfiorare il Trissi in due occasioni, sempre con De Giglio, che al trentacinquesimo semina il panico nella difesa con una splendida azione personale. E al trentanovesimo si divora una colossale chance da buona posizione. Ma è il preludio al 3-1 che chiude i giochi al minuto 89. Crossi Ludovici, testa di bubola appena entrato, è meritato Trissi un lanciatissimo Castelnuovo sempre più vicino alla zona salvezza diretta. Discorso opposto naturalmente per il Chieti, che vede avvicinarsi pericolosamente le sabbie mobili dei play-out. Questo pomeriggio alle 16 all'arena di Contrada Selvapiana, la Magnolia Campobasso sfiderà il Costa Masnaga nel torneo RIA 1 di pallacanestro femminile. Situazione non semplice nel quintetto di casa, con diverse noie fisiche e problemi di malanni influenzali. Al contrario, le Lombarde sono formazione in piena risalita in classifica. Sette successi nelle ultime nove gare disputate. Sabato 2 aprile, la Magnolia dovrà affidare un'altra Lombarda, il Sesto San Giovanni, dove è approdata l'ex Maddalena Gorini. La selezione di calcio a 11 del Cus Molise ospiterà domani sul terreno di gioco di Campodipietra il Cus Roma per il ritorno delle qualificazioni alla fase finale dei campionati nazionali universitari. La squadra molisana parte dalla vittoria ottenuta nel Lazio per 2-1 rispetto alla sfida di andata. Ci sarà in più una selezione allenata da Mario Cordone e anche Ivano D'Aversa. Garantire maggiore sostanza e qualità alla manovra. Fischio d'inizio previsto per le ore 13. E con questa notizia di sport è tutto. Termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. O come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione. Vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.